L'iniziativa denominata, io so, con Giampiero è stata organizzata dal Forum dei Giovani di Montecorvino per testimoniare l'unità di una comunità che davanti ad un'azione senza cuore risponde al cuore col coraggio di chi sceglie di lottare contro la paura. Il silenzio è la forma più alta della parola, comprenderlo è la forma più alta dell'essere umano. Noi per Giampiero vogliamo in silenzio far battere un unico cuore. Un corteo emozionante, partecipato e silenzioso si è mosso dal convento dei Frari Cappuccini di Santa Maria degli Angeli e ha raggiunto Piazza Belvedere dove sono stati osservati tre minuti di silenzio per mostrare vicinanza all'avvocato Giampiero Dell'Ibbovi, stretto collaboratore del neosindaco di Montecorvino Rovella Martino Donofio, vittima di un attentato lo scorso 18 giugno.